la notte di halloween ha portato alla ribalta una nuova coppia che sta facendo parlare di sé chiara ferragni e giovanni tronchetti provera i due sono stati avvistati insieme al locale maca loft di milano dove sono stati immortalati sorridenti e complici la paparazzata pubblicata dal giornalista gabriele parpiglia ha rivelato che la loro relazione non è solo un'amicizia ma una vera storia d'amore secondo parpiglia tra i due c'è un amore pieno da tempo suggerendo che la loro connessione sia più profonda di quanto si possa pensare durante la serata di halloween non sono mancate dolci e fusioni tra l'ex moglie di fedez e l'uomo d'affari segno che la loro relazione sta progredendo già nei giorni precedenti si vociferava di una frequentazione tra i due con avvistamenti in ristoranti milanesi come la briciola inoltre giovanni ha partecipato al compleanno di marina di guardo la madre di chiara un chiaro segnale di integrazione nella vita familiare dell'influencer questi eventi suggeriscono che la loro relazione non sia un semplice flirt ma qualcosa di più serio e duraturo ciò che colpisce è la disinvoltura con cui chiara e giovanni si mostrano insieme senza timori di essere fotografati questo atteggiamento contrasta nettamente con la situazione vissuta da chiara con silvio campara dove le dinamiche erano più complesse e meno chiare i rumors su campara avevano alimentato speculazioni su una possibile rottura con la madre dei suoi figli giulia lucchi ma ora sembra che la ferragni abbia trovato una nuova stabilità con tronchetti provera a milano la loro storia d'amore è già oggetto di discussione e i fan sono curiosi grazie a tutti